Il consiglio direttivo della Lega Nazionale di Lettanti ha decretato la promozione d'ufficio del Bitonto in Serie C e ieri pomeriggio, proprio quando sono filtrate le prime indiscrezioni, confermate poi dal comunicato ufficiale di Ramato, le strade della città si sono riempite e colorate ulteriormente di nero verde. Ulteriormente perché già negli scorsi giorni i balconi delle case sono stati addobbati con sciarpe bandiere per alimentare un'attesa spasmodica. Poi ieri intorno alle 16 i primi gruppi di tifosi in piazza, cori e festeggiamenti, trombette e claxon, mascherine nero verdi, necessari in questo storico momento in cui verse il nostro paese e un nome urlato da tutti, quello del presidente Francesco Rossiello, vero artefice di questa grande scala del Bitonto e presente proprio in piazza, dall'eccellenza alla Serie C nel giro di due stagioni, lungimiranza e colpi d'avanguardia. La conferma di Patierno la scorsa estate è stato il fiore all'occhiello di una campagna trasferimenti estiva semplicemente strepitosa, una squadra perfetta che ha viaggiato tutto l'anno a suon di gol e con la porta più volte blindata che perforata. Adesso la vera attesa è per il 3 giugno, data indicata per il verdetto ufficiale. Intanto, come recita la maglia celebrativa, il Bitonto c'è.